Io penso che abbiamo entrato molto molto bene nella partita. Per me abbiamo fatto un primo tempo meglio che il secondo tempo su tutti i momenti, ma penso che abbiamo vinto perché la squadra non ha abbassato la testa, ha creduto sempre che possiamo fare, potevamo fare gol oggi qui, ha creduto sempre, anche dopo che abbiamo preso il gol, dopo il rigor, ma penso che soprattutto la squadra ha creduto che era possibile cambiare il risultato. Gli errori che si ripetono di tanti ragazzi, anche passaggi facili, a che cosa sono dovuti? Cioè è un momento, magari era una partita difficile, sentivano questa partita e quindi hanno commesso tanti errori per paura di sbagliare, come se lo spiega lei? È difficile di spiegare, come si spiega per esempio la situazione del primo gol, è difficile per un allenatore spiegare il momento che la squadra stava bene, ma il problema è che molte volte non sono le altre squadre che creano il problema alla Roma, siamo noi stessi che creiamo a noi stessi. Oggi è successo, ma la squadra ha reagito molto bene, ha creduto sempre, per ente una squadra fortissima, come abbiamo guardato oggi qui, Ajax è una squadra fortissima, ma come ho detto, mai abbiamo abbassato la testa, abbiamo stato sempre nella partita e abbiamo cambiato un risultato che è importante per noi. Il round non è chiuso, sono sicuro che non è chiuso, ma è stato importante vincere. Scusa, soltanto faccio la traduzione un attimo. Eerste, soltanto due minuti. Eerste vraag was, hoe is het mogelijk in het begin dat het zo ging aan de trainer en dat het zo goed ging in de eerste helft. De antwoord van de trainer is dat het grote keermoment was eigenlijk die redding van de keeper en dat wat hem betreft de eerste helft veel beter is gespeeld door Roma dan de tweede helft. En het grote keermoment was die redding is van de keeper en dat de ploeg daarin nooit zijn hoofd heeft laten zakken. En de tweede vraag was, hoe kan het, hoe is het mogelijk dat, ja, persoonlijke fouten, hoe verklaart u dat? En de trainer die zegt als antwoord, ja, persoonlijke fouten. Het is heel moeilijk om te verklaren hoe die ontstaan. Het ging heel goed tot en met de veertigste minuut. Alleen het belangrijkste is, zoals ik heb gezegd in de eerste, als antwoord op de eerste vraag, dat ook bij persoonlijke fouten wij als Roma met onze koppen bij elkaar blijven en onze hoofd terecht houden. Het is het allerbelangrijkste. Grazie. Salve minister, torno un pochino sulla prima domanda e le giro un po' rispetto a quello che ha detto lei. Le chiedo come mai a volte in campionato non avete avuto la forza di fare quello che avete fatto nel secondo tempo di questa partita, cioè tirar fuori una rabbia direi agonistica, che qualche volta invece in campionato è venuta meno. E la seconda cosa, se posso, lei parla da qualche giorno di bugie, posso sapere lei come se le spiega, ma se sono bugie che ci siano queste bugie. Come posso spiegare le bugie? Sono bugie. come quello, quello che è difficile da accettare per me è che una settimana importante prima di una partita come questa, in cui stiamo rappresentando non solo la Roma, ma l'Italia, si crea di questo tipo di bugie. Per me è difficile capire questo. Io sono una persona che accettare tutte le critiche. Se giochiamo bene, se non giochiamo, se Fonseca sceglie bene, se non sceglie. questo non è un problema per me. Il problema è quello che si vuole creare in questo momento alla squadra della Roma. Chi fa questo non vuole bene la Roma, perché qui non sta in causa Paolo Fonseca, sta in causa della Roma. Quello che hanno fatto questa settimana non è giusto, non è vero, non è onesto, non è onesto. E chi crea questo tipo di bugie sono sicuro che non è un buon professionale, professionista. Io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, ma visto che non credo che un giornalista l'inventi... No, ma ha inventato, ha inventato. In questa settimana ha inventato. Ma non pensa che invece sia a questo punto qualcuno che vuole far uscire questo... Mal intenzionato questa notizia. E che hanno creato che abbiamo avuto un confronto dopo la partita con Sassuolo, con i giocatori mi hanno mandato fanculo. Questo è una grande bugia. Io posso dire, e è la mia opinione, che chi fa questo non è un buon professionista. e per me non ha difesa per questo tipo di persone che crea questo. Sulla partita... Le avevo chiesto prima, invece, come mai in campionato a volte non siete riusciti a tirar fuori lo stesso agonismo, diciamo, di questo secondo tempo, secondo lei? Io non sono una persona di cercare alibi, di cercare escusa, ma non possiamo dimenticare che abbiamo fatto quasi sempre il campionato dentro del quattro primo della classifica. Da poco tempo. Tre, quattro partite. Ma è una verità che abbiamo perso i giocatori importanti per la squadra. Abbiamo perso i giocatori che sono determinanti, che sono stati determinanti in questa stagione. in questo momento difficile. È difficile non avere Veretout, non avere Mkhitaryan, che sono stati due giocatori decisivi nella stagione. È difficile non avere Smalling. è stato difficile. Abbiamo perso la posizione nel primo quattro della classifica da poco tempo fa. Ma quello che è importante adesso è pensare al presente e al futuro. È importante adesso pensare alla prossima partita del campionato. Gli lo chiedo solo perché le ha citati lei. Spinazzola come sta? Dobbiamo fare una valutazione adesso. Grazie.